Questa è una riflessione che volevo fare insieme a te, anche per capire come la pensi. In un tragico incidente, perché non ti accorgi di uno stop, perché andavi troppo veloce, perde la vita a causa tua, tuo figlio di 5 anni. A questo punto lo Stato pretende di giudicarti e lo farà, e a certe condizioni puoi addirittura finire in carcere. La mia domanda quindi è questa. Può la pena detentiva essere utile in una situazione del genere, di fronte cioè ad una pena naturale, il peso incommensurabile del dolore e del rimorso che attanaglia l'anima di un genitore per la perdita del proprio figlio, soprattutto se questo è avvenuto a causa sua. Cioè è giusto che un individuo già schiacciato sotto il peso di una colpa immensa e di un dolore che lo accompagnerà per il resto della sua vita debba affrontare anche il rigore della legge attraverso la detenzione. Personalmente ritengo che su questo aspetto si debba intervenire, o quantomeno rifletterci un attimino su. È il diritto penale. Chi stè?